La ricostruzione nel cratere sismico del centro Italia, cinque anni dopo il sisma del 2016. Si è svolto a Camerino un incontro proprio per fare il punto sullo stato dei lavori, organizzato dal coordinamento delle quattro ANCI regionali del cratere, alla presenza del commissario Giovanni Legnini e del capodipartimento della protezione civile Fabrizio Curcio. Presenti tra i 130 sindaci del cratere, anche il primo cittadino di Teramo, Gian Guido D'Alberto, presidente di ANCI Abruzzo, che ha fatto una rapida ricostruzione di tutto quello che è successo in questi ultimi cinque anni, con gestioni da dimenticare, a causa delle quali i territori abruzzesi hanno subito una sottovalutazione per la quale ancora oggi si pagano le conseguenze. Il commissario Legnini ha annunciato che chiederà al Governo nuovi fondi per la ricostruzione. Sono oltre 50.000 edifici su cui intervenire, con un costo che si aggira intorno ai 20 miliardi di euro e la proroga del superbonus. Nel suo intervento il sindaco D'Alberto ha affrontato il tema della filiera istituzionale, particolarmente carente nei primi anni, soprattutto a livello governativo. L'unico livello istituzionale che ha tenuto alta la voce delle comunità e dei territori è stato quello dei sindaci, che sin dall'inizio sono rimasti uniti. Sindaci che, pur appartenenti a diverse comunità, realtà, regioni, hanno sempre rappresentato con forza la voce dei territori, cercando di coprire il vuoto in cui ci si trovava. Anche con azioni estreme, a Roma per esempio nel gennaio 2020, con 120 sindaci pronti alla restituzione della fascia, come protesta verso un Governo che ritardava a individuare un nuovo commissario alla ricostruzione e che di fatto ha sbloccato la situazione, con la nomina di Giovanni Legnini. Si guarda ora al futuro con maggiore ottimismo. Grazie a tutti.